Avete presentato insieme ad ISEO un'indagine sul carico di lavoro amministrativo che grava sugli onco-ematologi. Che cosa è emerso? Quali sono i dati più importanti? I dati più importanti significativamente sono due. Il primo è che circa la metà del tempo lavoro di un medico-ematologo durante la normale routine quotidiana è dedicato ad aspetti amministrativi. E ahimè l'altro dato ancora più pesante e importante è che la metà, circa poco più della metà degli ematologi dichiara di essere in burnout, quindi in quella situazione che conosciamo molto bene è poi risultare difficile anche per avere una serenità nella cura e la giusta distanza dalle cose. Questa è una criticità che grava sicuramente sui pazienti, adesso abbiamo capito anche sui medici, ma che cosa serve? Avete fatto la fotografia del problema. Che cosa serve per restituire tempo agli onco-ematologi e quindi poi di conseguenza anche una qualità ai pazienti? Cose anche abbastanza semplici. Sicuramente la più semplice è mandare al territorio, di cui oggi parliamo tanto, alcune attività e questa è la cosa più semplice perché c'è chi già lo sta facendo e lo fa e quindi basta acquisire il modello, ma la cosa invece per cui siamo qui oggi è tornare a dare l'integrità del tempo medico nella prassi quotidiana. Il medico deve fare il medico, deve essere aiutato da un amministrativo, semplicemente questo, perché questo ci riesce a dare anche quella serenità nel lavoro che ci permette di fare qualità. È banale quello che sto dicendo, ma ce l'hanno raccontato molto bene gli ematologi nelle interviste, nella survey, e quindi da qui dobbiamo partire perché non c'è centralità del paziente se non c'è prima centralità del medico. Il medico deve stare bene per curare bene, altrimenti l'innovazione la annientiamo. Quindi non c'è un problema di carenza di onco-ematologi, come magari spesso si tende a pensare o anche si legge. È un problema di nuove figure che possano dare supporto a questo tipo di carico amministrativo? Assolutamente sì. La narrazione e l'immaginario quotidiano è proprio questo. Mancano i medici, mancano i medici, mancano i medici. Questa indagine ci dice che almeno nell'oncomatologia abbiamo quasi la certezza, visto il dato che tutti gli chiamano di dedicare la metà del loro tempo a dati amministrativi. Siamo certi di questa cosa ormai. E quindi non mancano i medici, servono degli amministrativi, servono data manager, servono infermieri di ricerca, servono tutte quelle figure che in qualche modo coadiuvano il medico. Ma insomma questo medico ha studiato per fare il medico, facciamoglielo fare, fatta a 100 la giornata, almeno per 80-90. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 30.000 nuovi casi di linfomi, mielomi, leucemie. Grazie all'introduzione di farmaci innovativi la prognosi di questa malattia è molto migliorata. Ma c'è paradossalmente un lato negativo, che c'è un aggravio del lavoro amministrativo proprio a carico dei medici. Come fa emergere l'indagine svolta da Iseo e la lampada di Aladino. Qual è la sua esperienza e lei che cosa ne pensa? Il problema della cronicizzazione è un fatto assolutamente positivo perché molti pazienti convivono con la propria malattia. Dal punto di vista della ricaduta invece sul sistema sanitario questo è un fattore negativo perché più pazienti affolleranno i nostri ambulatori e necessiteranno di impiegare nuove risorse. Questo implica due cose. Il primo è che i nostri ambulatori non possono essere gonfiati a dismisura. Quindi ci vuole una buona collaborazione con la medicina territoriale. E in secondo tutto il lavoro diciamo così di tipo burocratico amministrativo che si collega a questi pazienti deve essere svolto. E questo lo facciamo noi. L'esperienza di oggi o i dati di oggi hanno dimostrato che questo impegno amministrativo è quasi preponderante nell'attività clinica. Porta via quasi il 50% del tempo. E quindi il messaggio di aiuto è avere qualcuno che ci aiuti, scusate il gioco di parole, a risolvere il problema. Perché questo 50% è un tempo che viene sottratto poi al paziente in qualche modo. Il medico ha un lavoro amministrativo da fare che è quello legato alla cura del paziente. Le faccio un esempio. La redazione della relazione di dimissione piuttosto che scrivere sulla cartella clinica. Queste sono cose che dobbiamo fare noi. Le impegnative, le ricette, le richieste degli esami. Queste sono cose che dobbiamo fare noi. Però tutto ciò che comporta un disservizio per un esame che non viene effettuato o che viene spostato o che non riesce ad essere pernotato. E queste sono istanze che avvengono centinaia di volte al giorno. Queste non sono di nostra competenza. E in un certo modo ce ne vorremmo liberare. Chi dovrebbe farle però? Dovrebbe farla, a mio modo di vedere, un personale amministrativo dedicato al paziente. Che faccia anche lui parte della cura. Che tolga queste piccole scocciature. Un quasi un amministrativo dedicato alla risoluzione di questi problemi. Lei sa che se non riesce a prenotare un'attacca, se la sua attacca è stata spostata o se ha bisogno di sapere quali sono gli esami necessari a fare una certa cosa, chiama il signor X e questo lo risolve il problema. Altri medici chiamano noi. Noi anche giornalisticamente siamo abituati a slogan come il paziente al centro. Oggi invece vediamo qui il medico al centro. Questo anche a sottolineare il fatto che questo tipo di problematica non soltanto sottrae tempo al percorso di cura del paziente, ma ha delle conseguenze anche su voi medici in termini proprio di burnout e così? Beh, quando manca il tempo, quello che si genera è la sensazione di non aver lavorato bene. Per cui quando un medico è sotto pressione, la prima cosa che ti dice è non sono sicuro di aver fatto giusto quello che dovevo fare. Questo senso di insicurezza è un brutto compagno di viaggio. E poi il medico per fortuna deve ritornare al centro.